gentili telespettatori buona giornata vediamo le ultime notizie a poche ore dalle elezioni politiche nazionali in italia domenica 25 di settembre schlain che la vicepresidente dell'emilia romagna dice amo una donna e non sono una madre sapete la famosa il famoso ritornello della meloni sono una donna sono cristiana sono una madre lei dice sono una donna amo una donna non sono non ho figli non sono sposata e aggiunge non basta essere donna per evitare le altre donne se non difendi i diritti delle donne a partire da quelli sul proprio corpo c'è una bella differenza tra le leadership femminili e quelle femministe dice durante la chiusura della campagna elettorale del pd poi facendo il verso a un noto discorso di giorgia meloni ha aggiunto sono una donna amo un'altra donna non sono una madre ma non per questo sono meno donna non siamo siamo persone con dei diritti dice intanto come vi raccontavo nel video precedente a questo berlusconi berlusconi dice che vuole aumentare il reddito di cittadinanza che come è stato concepito il reddito e la risposta sbagliata a un problema drammaticamente reale quello della povertà in italia ci sono 4 milioni 750 mila persone che vivono in condizioni di povertà assoluta è un dato vergognoso inaccettabile e dice queste persone il reddito di cittadinanza non solo va non va abolito ma il reddito di cittadinanza va addirittura esteso tutti coloro che vivono in povertà e deve essere addirittura aumentato dice silvio berlusconi altra cosa però era l'illusione che potesse risolvere i problemi dei giovani dice non accetto che i giovani stiano stiano a casa correndendo il reddito di cittadinanza letta dice che meloni vuole fare dell'italia una seconda polonia un disastro giorgia meloni ha la stessa posizione del governo polacco sulla russia molto atlantista ma profondamente anti europeo a me che l'ambizione di meloni sia di fare dell'italia una seconda polonia sarebbe un disastro la polonia non sta nell'euro noi noi sì e dobbiamo trovare le intese con i paesi che stanno nell'euro dice letta all'ultima parola su la 7 e aggiunge nulla di personale con conte ma c'è stata una divaricazione quando ha fatto cadere draghi da parte mia dice nulla di personale nei confronti di conte perché un partito si sceglie i suoi leader e dirigenti e si parla con quelli e sono abituato così dice letta rispondendo a una domanda durante lo speciale sulla 7 con conte c'è stata evidentemente una divaricazione fortissima su una cosa non banale che è stata la decisione di far cadere draghi avere draghi che governava fino a fine legislatura avrebbe consentito una legge di bilancio ordinata con le bollette il salario minimo perché avevamo trovato l'accordo sul salario minimo invece non c'è nulla di tutto questo proprio conte che voleva il salario minimo per correre al voto ha calpestato il salario minimo perché doveva far cadere il governo draghi insomma dice letta una scelta profondamente sbagliata vedremo nel futuro che cosa succederà ma conte risponde non abbiamo nessuna difficoltà ad andare all'opposizione dice anche per stavolta ci rivaleremo ci riveleremo la sorpresa di queste elezioni anche dall'opposizione agiremo con coerenza e determinazione letta dice che preoccupante che salvini abbia chiesto dimissioni di ursula von der lion più che preoccupante forse una delle poche cose giuste che ha fatto ultimamente salvini perché la signora non doveva permettersi di dire che se in italia le cose vanno in un certo modo avremmo le misure per contrastare il nuovo governo questa cosa è bruttissima l'europa non si deve intromettere in quello che si fa in italia maletta dice che uno dei leader della destra oggi ha chiesto le dimissioni della presidente della commissione europea vogliono iniziare così loro rapporto con l'europa credo sia una cosa preoccupante dice letta de magistris al comizio di chiusura dice non prendiamo ordini da ursula von der lion né da altri né da biden né da ursula insomma de magistris prende un po le difese uno dei pochi insomma poi conte alla folla dice noi ci mettiamo competenza cuore coraggio voi dovete stare dalla parte giusta per la proposta di conte l'emersione delle colf che lavorano in nero e poi aggiunge che la scessione di di maio è stata la nostra salvezza e poi piazza del popolo con letta che la campagna elettorale dice vinceremo ma la piazza è mezza vuota forse più di mezza vuota ho guardato le immagini e credo che sia per i due terzi vuota un po tutte le piazze sono state vuote credo che ci sia proprio una disaffezione uno scarso interessamento degli italiani a questi politici per caso che abbiamo visto in queste in queste elezioni promettere un sacco di bagianate senza avere i soldi una politica veramente da quattro soldi un paese da un paese senza soldi con una politica da quattro soldi e poi vediamo che vediamo che ci sono le due piazze a confronto in una fotografia la piazza del centrodestra è quasi piena la piazza del pd è quasi vuota queste sono le due le due piazze per quanto possa interessare ed essere importante quante persone vanno in una piazza l'importante sarà domenica realmente il voto calenda chiude la campagna elettorale sul gianicolo giorgia sei pronta pure io ma meglio draghi dice calenda con renzi e poi vediamo che salvini contro la wonderlion dice l'italia merita rispetto chieda scusa o si dimetta è assolutamente ragione la taverna del movimento 5 stelle dice a fratelli italia anche la foto con il braccio alzato sono goliardia chiede la grillina fico poi ci dicevano che il movimento 5 stelle era destinato a scomparire ma un'anima che si rinnova sempre sì l'anima del del l'anima del reddito di cittadinanza e poi andiamo a vedere dice conte ci avevano dati per morti ancora una volta si sono sbagliati vabbè anche tu come fico non fate finta di non vedere che è tutto un voto di scambio renzi dice che domenica sarà un grande risultato nel 2024 saremo il primo partito d'italia speranza aggiunge che la meloni è irresponsabile strizza l'occhio ai novax e insegue i loro voti insomma lui vede questo lui vede cose intanto poi io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video arrivederci a tutti e grazie